Noi non dobbiamo guardare se incontriamo le prime o le ultime perché il nostro obiettivo è affrontare ogni partita come se la squadra che affrontasse fosse una squadra forte, quindi non possiamo permetterci di sottovalutare gli avversari. È un periodo importante per noi, ma è un campionato molto lungo e quindi dobbiamo dare il meglio in queste partite ma considerando che poi ce ne sono ancora tante altre per arrivare alla fine del campionato e come ripeto da tanto tempo sarà determinante poi a rimanere in scia perché poi il campionato di ritorno è un campionato molto diverso. Quindi è una partita che dobbiamo prendere con la giusta determinazione, con la giusta concentrazione e non pensare di potersi valutare gli avversari perché altrimenti facciamo poi gli errori che un pochino diciamo ci hanno un po' condizionato in questo inizio di campionato.